Se cercate il successo, con giudizio, come Maria Grazia Cucinotta, o quasi in sordina, come Tom Hanks, se amate le sfide a rotta di scollo, come Ivan il Terribile, e non il falsetto, se volete navigare col vanto in poppa, ma dove vi porta il cuore alla Cristina Comencini, se anche per voi dominare è meglio di sedurne, come le donne di grossa cilindrata o gli uomini di grandi spalle, petto in cuore, è di moda inedicola, con il regalo questo mese, uno splendido collano. Grazie.